Quelli a noi non ci vedono proprio? A te forse, perché a me mi hanno detto che siamo diversi e che non ci vogliono coloro. Oh, allora? Allora che? Filippino, ciccione. Ragazzi. Ah, che cos'è? Funziona perché ogni disegno è diverso. Fossero uguali, il fiore non... Sboccerebbe. La diversità è una ricchezza. Sboccerebbe.